e tu alessandro lo sai come sei fatto dentro io in parte grazie a carlo che proprio è stato diciamo il reporter il primo reporter di non fatemi dire di guerra ma il primo reporter sul campo mio interno l'ho visto perché le prime conoscopio che ho fatto non volendomi addormentare e dopo magari parliamo anche di cose significhi anestesizzarsi o meno io ho proprio voluto vedere il percorso la pista ho proprio voluto vedere attraverso ho voluto capire il tubo ho voluto vedere quando lui guidava dove andava e finalmente adesso riconosco anche quando lo vedo nei film o in altre situazioni riconosco proprio questo canale questo tunnel della manica questo tunnel che va dentro di me e riconosco che cosa succede nelle varie situazioni come quando si guardano le gallerie dell'autostrada e oggi vogliono vedere cosa cala cosa cola cosa si rompe cosa si sta spezzando stiamo attenti perché quando siamo dentro questi posti possono crollare delle parti o essersi delle parti noi abbiamo capito io ho capito finalmente che potevo andare a vedere come ero messo dentro quando la gente ti dice ma tu come sei messo come sei messo ti chiedono sempre psicologicamente esternamente se sei vecchio se sei giovane sei capelli bianchi ma nessuno ti dice come stai dentro come sei messo dentro alle volte messo dentro significa gallera ecco guardarsi dentro non ha solo un significato spirituale importante per me ma anche un significato viscerale e io dentro mi sono visto abbastanza bene ma non benissimo beh questo questo flash del tubo è un'immagine molto realistica in realtà di quello che avviene anche grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti